Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video e questa è la venticinquesima uccisa delle miniature di Naruto, Danzo. Questo schifoso, se ce l'avessi qua davanti a me in questo momento, lo prenderei a schiaffi, proprio subito, senza neanche dargli il tempo di usare tutti gli Sharingan che ha rubato agli Uchiha. Ecco, quando vedo miniature come questa, faccio lo stesso discorso e faccio sempre. Perché hanno fatto miniature tipo queste, non tipo Nagato o altri personaggi? Poi però ci penso bene, penso che effettivamente Danzo è un personaggio importante, bastardo quanto vuoi, però comunque è importante. Comunque, prima di cominciare, ricordatevi di lasciare like, commentare, condividere e iscrivervi al canale. Passate dal profilo Instagram e attivate la campanellina e se non l'avete fatto, ascoltate il mio album, trovate tutto in descrizione. Detto questo, direi che possiamo andare ad aprire la miniatura, probabilmente questo qua sarà un video più corto, perché comunque, cioè, anche a vederla così mi sembra ci sia molto poco da dire. Comunque, andiamo a vedere, intanto apriamo la confezione, ok, tiriamo fuori fascicolo e miniatura e andiamo un po' a vedere. È quasi più piegato questo cartoncino qua che il fascicolo, comunque, beh, prima di tutto vediamo il fascicolo, quindi la miniatura la mettiamo da una parte. Anche il fascicolo è un po' piegato, ma diciamo non è tenuto troppo male. Comunque, andiamo a vedere, abbiamo Danzo in copertina, vediamo un po' cosa c'è qua. Come sempre, ragazzi, si vedrà tutto arancione, non si sa per quale strano motivo, a volte il mio telefono parte, cioè, non so perché, fa diventare tutto arancione, a caso. Comunque, abbiamo qua Danzo Chimura, compagno del terzo Okage. Amicizie pericolose, e qua possiamo vedere Danzo e Anzo, cioè, grande fantasia con i nomi. Qua, vabbè, lo sharingan e la volpe a nove code, altri personaggi legati a Danzo che sono il terzo Okage, appunto, e la signorina Tsunade, il quinto Okage. Poi abbiamo il potere di Izanagi, tecnica illusoria fortissima, la più forte dopo Izanami, probabilmente. Ecco qua la morte di Danzo. Momento in cui ho goduto di più in tutto Naruto, no, vabbè, forse quello in cui ho goduto di più no, però vabbè, non importa. Andiamo a vedere il poster. Ragazzi, che dire, è un bel poster. Vediamo diverse parti della vita di Danzo, qua, vabbè, da giovane, con Kakashi, lo sharingan, lo scontro con Sasuke, qua quando Okage, qui è una specie di riunione con i consiglieri, insomma, qua sempre con lo scontro con Sasuke, pure qua. Qua c'è anche Karin, il summit dei cinque Kage, qua con la volpe a nove code, e qua su con Orochimaru e, se non sbaglio, questo qua dovrebbe essere Kabuto. Comunque, dai, diciamo che è un bel poster, è simile a quello di Conan. Comunque, andiamo avanti, abbiamo i migliori momenti di Danzo a Chimura, qua, vabbè, ecco, vedete qua Kabuto, qui questa immagine, comunque, questa l'abbiamo vista anche prima, lo scontro con Sasuke, ovviamente questa è la parte più importante di Danzo. E qua, il nostro classico Naruto, il paese del bosco, la fine del gruppo Anni, insomma, l'ultima pagina, così, e la prossima uscita, ragazzi, è Gai. A vederlo qua, sembra fatto un po' così e così, ma non ci dobbiamo aspettare neanche troppo. Ormai diciamo che non mi aspetto più chissà cosa, anche se per alcune miniature lo spero, però, vabbè. Cioè, ovviamente, spero che alcune miniature future siano fatte bene, questa, mi importa, è giusto, però, insomma, vabbè, cioè, spero si impegnino più su altre miniature, se proprio si devono impegnare poco, ecco. Comunque, il fascicolo l'abbiamo visto, quindi passiamo adesso alla miniatura. Eccolo qua, sembra abbastanza semplice, come miniatura, cioè, niente di troppo particolare, comunque adesso andiamo ad aprirla. Ovviamente, comunque, è rovinata, vedete, confezione tutta rovinata, qua su è sempre rovinata, boh. Vabbè, comunque, apriamola, si è aperta subito, ragazzi, buono, vabbè, vediamo un pochino com'è, allora, vediamo la carta, plastica l'abbiamo levata e ecco qua il nostro Danzo. Ma perché non metta a fuoco? Base con il nome che leviamo per andare a vedere la miniatura, come sempre. Bah, ragazzi, fa cacare. Partiamo dal sotto. Guardate il vestito quante sbavature che ha, sembra che ci abbiano versato... lo vedete qua? Guardate, ma poi perché? Sembra ci abbiano versato sopra la farina con l'acqua che... cioè, guardate. No, via, ragazzi, ma vi pare normale. È come se l'avessero inzuppato nel cemento e avessero tentato di ripulirlo con scarsi risultati. Il bastone, ragazzi, è proprio conficcato nella mano piantato. Però, perlomeno, l'altezza è quella, perché, conoscendola da Agostini, magari potranno farlo finire qui. Non si sa mai. Qui, questo buco nel collo, questo scavo qua, come se avessero staccato la testa e l'avessero proprio rincollata nel mezzo. Cioè, vedete? Proprio staccato. Per non parlare poi del giallo all'interno di questo coso nero. Ragazzi, ma perché? Ma arriviamo poi alla faccia. Ora non si vede bene, però... ecco, no, da qua non si vede bene. Forse da qui sì? Comunque, vedete un pochino questa benda che ha sulla faccia, come gli sta qua? Cioè, sembra proprio come se l'avessero presa e schiaffata nel viso, proprio gliel'ha sfondato. Vedete questa riga? Sembra proprio che gli ha sfondato il viso. Vabbè, sti capelli... Non commentiamo, anche se, vabbè, non è che ce l'abbia tanto diversi, però, insomma... La faccia è proprio secca, smunta. Guardate... Vabbè, vabbè, vabbè. Qui dietro guardate quanto è strizzato, c'è proprio la buca toccando col dito. Ma, ragazzi, ora, io dico... Eh, guardate quanto è semplice sta minatura, non ha niente di così complicato. Cosa costava farla bene? Forse quando hanno realizzato che stavano facendo danzo, gli ha fatto schifo anche a loro e l'hanno proprio buttato via. Però... Dai, ragazzi... Cioè, guardate, è semplice, come fa a venire male? La faccio vedere un po' così anche da lontano. La faccio vedere come sempre sia davanti che dietro. Comunque nulla, cioè, dalla fine c'è poco da far vedere, l'ho già fatto vedere tutto. Bene, ragazzi, questo era Danzo, la venticinquesima uscita delle miniature di Naruto. Penso di essermi espresso anche troppo riguardo alla sua qualità. Ovviamente questo bellissimo personaggio, cioè, si meritava un po' di presentazione, un po' di... Cioè, si meritava tutto ciò. Ovviamente sto scherzando, Danzo mi fa schifo, lo picchierei, se fosse qui accanto a me. Però è una miniatura di Naruto e quindi va presa. Tanto ormai io le sto prendendo tutte, fatemi sapere anche voi se le prendete oppure no. Io ragazzi, come sempre, vi ricordo di lasciare like, commentare, condividere e iscrivervi al canale. Passate dal profilo Instagram per rimanere sempre aggiornati su tutto. Attivate la campanellina per non perdervi nessun video. E se non l'avete fatto, ascoltate il mio album. Lo trovate in descrizione insieme a tutto il resto. Ovviamente, se vi state persi le altre recensioni delle miniature di Naruto, se vi interessano o come volete voi, trovate tutto nelle playlist, che trovate appunto in descrizione. Detto questo io vi ringrazio, vi saluto e ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!